La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava ad un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure amoglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'imbeddiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Così una vecchia maestrata moglie, senza mei figli, senza più voglie, si prese alla briga di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le appostroppò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelli andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, la schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi, ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui si è inculmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il cremo, l'accompagnarono malvolentieri. Alla stazione c'erano tutti dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scarita nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arto scocca, vola veloce di bocca in bocca. La stazione è successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiori, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estremozione, il benefimero della bellezza, la vuole accanto in processione, con la vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, porta spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano. Grazie. 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 Grazie.